Il venerdì immaginiamo la vostra stanchezza alla fine della settimana, ma anche di venerdì, anche rispetto a una settimana faticosa, i sogni si possono sempre realizzare. È la storia che vi racconteremo fra poco qui in studio ed è la storia di Oscar Mattei che si è laureato a 89 anni. E rimanete con noi perché c'è anche un'altra storia, una storia di amicizia, una storia che la disabilità ha portato a superare delle barriere. Loro sono Ele e Marghe e tra poco saranno qui in questo studio per raccontarci proprio come camminare insieme, aiuta a guardare da un'altra prospettiva. E allora cominciamo a camminare insieme, andiamo al centro dello studio dove vediamo già molte cose che capiremo quest'oggi e invitiamo allora a venire con noi Oscar Mattei. Io posso dire che facciamo un applauso. Un applauso, un applauso che è l'applauso del nostro studio. Buongiorno e benvenuto, prego. E congratulazioni dottore. Quasi non mi sembra vero. Ha 89 anni, laurea in legge. Ci dica l'emozione di quel momento. È stato molto emozionante. Era la conclusione di cinque anni di studio che non sono stati facili a riprendere dopo 40 anni di assenza dai banchi della scuola. Quindi lei si immagina l'emozione di conseguire questo dottorato. Noi vediamo qua una foto che la ritrae appunto tra l'altro con la fascia che abbiamo qua in studio ma vogliamo rivivere quel momento insieme a lei. Allora vediamo insieme il momento della proclamazione. La commissione all'onore, anche alla presenza del magnifico dottore, di proclamarla dottore magistrale in giurisprudenza e lei ha segnato il voto di 100 su 110. Sul nome della legge la proclama dottore magistrale in giurisprudenza. A voi. Che cosa rappresenta per lei quella pergamena che è qua, quella stretta di mano e quel dire la dichiaro dottore? È un traguardo che mi ero posto 5 anni prima per vedere se ero in grado ancora a 85 anni di apprendere ciò che avrei studiato o che mi sarebbe stato detto e se ero capace poi di riportare queste cose. Avevo bisogno di un giudice terzo. Quale poteva essere questo giudice terzo se non i professori che mi avrebbero esaminato? E quindi mi sono iscritto all'università e ho cominciato questo percorso di giurisprudenza. Ora, iscriversi all'università oggi non è naturalmente come iscriversi all'università una volta perché ci sono contenuti da studiare, ci sono anche telefonini che si possono utilizzare per fare ricerche eccetera. Lei non aveva a disposizione, non adoperava i telefonini però anche da quel punto di vista lì si è ingegnato nell'essere al passo con i tempi. Sì, diciamo che i colleghi col telefonino interpellavano codici e altre cose che al momento bisognava esaminare e io fino al terzo anno di università ho fatto senza telefonino, non ho avuto mai un telefonino nella vita. Quindi mi prendevo appunti velocissimamente per non rimanere indietro. Quando ho frequentato il terzo anno di università ho trovato che non si poteva fare a meno del telefonino. Anche perché i codici sono pesanti, i codici sono pesanti da portare, quei codicioni per procedura penale, procedura civile. Devo dire la verità, tutta memoria. Quindi in qualche maniera mi sono esaminato se sono ancora all'altezza di apprendere. E io direi a chi va in pensione, a chi è anche più giovane di me, che la vita va vissuta, di non mettersi da parte, di si può essere utile a se stessi e agli altri, quindi di rimettersi in gioco sempre, di non escludersi dalla vita. La vita va vissuta, ci è stata data e credo che sia un peccato sprecarla. Il gioco che poi tra l'altro, ma lo vedremo anche nel corso della mattinata, è un po' una caratteristica che fa parte della sua vita, una sorta di leitmotiv. Però ecco, per mettersi in gioco, per studiare, per prendersi una laurea a 89 anni, bisogna anche, come dire, mantenere un allenamento mentale, un esercizio, avere una freschezza, riuscire a studiare. Non è una cosa scontata, ma c'è qualche trucco, c'è qualche modo o c'è qualche allenamento che lei fa? Mantenersi sempre in forma, con la curiosità, fare tante cose che magari uno pensa di non poter riuscire e invece entrare in questa disciplina, materia e risolverla al meglio. E questo acuisce un po' l'ingegno, l'intelletto, lo affina. Sì, io durante la vita sono stato molto, molto curioso, per cui non solo ho realizzato la più grande mostra del giocattolo al mondo, quella popolare, non degli re. e ho dipinto, ho scritto poesie, ho fatto lo scultore. Beh, ci risulta, Antonella, se non sbaglio, aspetta, micologo tu ce l'hai? Micologo ce l'ho, poeta. Poeta, paleontologo. Pittore. Collezionista di minerali. Prestigiatore, attenzione, prestigiatore, conferma? Sì, illusionista, ho fatto anche spettacoli in televisione, quindi in diretta, che non è... Confermiamo che non è la cosa più semplice. Non è la cosa più facile e mi batteva un pochino il cuore quando era il momento. Posso chiederle Oscar, come mai... Allora, ovviamente lei aveva il desiderio di laurearsi, però la scelta di una laurea in diritto che implica anche tanta memoria, perché ci sono alcuni esami dove bisogna memorizzare addirittura. Come mai proprio la scelta della laurea in legge e soprattutto qual è stato l'esame più difficile? La legge mi è sempre piaciuta. È un argomento che mi ha sempre attratto. Io adesso non so dire qual esame sia risultato più difficile. Posso dire che i ragazzi mi hanno sempre aiutato. La prima è che sono entrato all'università, mi sono preparato per degli esami e inconscemente le avrei dati tutti insieme. Mi ho dati due contemporaneamente. I ragazzi mi hanno detto no, uno per forza, altrimenti non ti riescono bene. Però io ho preso due bellissimi voti, i primi due esami, subito. E quindi poi mi sono adeguato. Però non so qual è l'esame. Gli esami, se si studiano, non sono un granché difficili. Sì, a volte può capitare di incespicare nella memoria, confondere qualche cosa. Sono cose che capitano a tutti. Cose che capitano, ma bisogna andare dritti per il proprio obiettivo. Oscar, lei parla dei ragazzi, ma vediamo anche nelle foto tutti quanti i colleghi dell'università. Allora vogliamo andare a conoscerli, a incontrarli, a vedere un po' come poteva essere questa vita con questo servizio di Giuseppe Chiantera. Avere Oscar Mattei come collega e compagno di studio è stata un'esperienza magnifica, devo dire. Ed era bello questo scambio di vedute tra di noi che siamo più giovani e la sua esperienza. Ecco, una fonte continua di novità e di ispirazione, proprio per la sua vita, perché veramente Oscar ha fatto un sacco di cose nella sua vita e questa è solo l'ultima di tante. Una marcia in più negli studi perché la sua determinazione diventava anche la nostra determinazione negli studi per fare le cose bene, con passione, con voglia. Lui si metteva sempre davanti, era il primo sostanzialmente, c'era proprio un banco davanti a tutto e lui stava sempre là pronto ad ascoltare. e noi ragazzi subito dietro ed era bello proprio per la lezione come si affrontava, si affrontava insieme. Un esempio di sacrificio, comunque parliamo di una persona che si svegliava ogni mattina prestissimo, Oscar appunto non abita qui nelle vicinanze, prendeva tutti i mezzi pubblici per arrivare all'università e la cosa ti fa pensare, magari tante volte uno si lamenta, sono lontano da casa, mi stanco, sono stanco la mattina e poi vedi Oscar appunto una persona quasi di 90 anni e diceva no, devo farlo anch'io, non ho scuse, non ho scusanti. Un giorno mentre eravamo a mensa parlavamo a pranzo dei supplì, i supplì alla romana insomma come li cucinava, lui ci ha detto come li cucinava lui, insomma con gli ingredienti dentro tipici della cucina romana e il giorno dopo, due giorni dopo, comunque non più tardi, ci ha fatto una sorpresa che ci ha portato una borsa piena di supplì cotti da lui la mattina presto e ce ne siamo mangiati tutti in aula, ovviamente per tutta l'aula, quindi sarà stato un centinaio di supplì squisiti. Abbiamo trascorso questi cinque anni insieme, abbiamo iniziato e terminato insieme perché io mi sono laureato due giorni prima e poi Oscar si è laureato qualche giorno dopo, quindi abbiamo proprio camminato insieme durante questo percorso universitario. Quello che mi ha colpito è il messaggio che lui comunque ha tramandato, cioè che comunque non è mai tardi per iniziare a studiare, non è mai tardi per fare niente. Il messaggio è bellissimo, la foto che la ritrae alle nostre spalle la riporta con la compagna di vita che l'ha accompagnata in questo percorso bellissimo. Ines, tra poco arriviamo anche a questo passaggio, ma io mi vorrei fermare sui supplicotti alla mattina. Quanti erano? Erano oltre 100. Ma veramente? Sì, sì. E lì i ragazzi sono tanti, quindi ho portato più plateau di questi supplì. Devo dire che sono stati simpatici, carini, li hanno mangiati e li hanno trovati anche buoni. Ma noi abbiamo sentito adesso i colleghi di università raccontare la loro esperienza con Oscar, con un bisnonno, come recitava la frase che sta sopra le nostre teste. Ma per lei com'è stato interfacciarsi con i ragazzi? Una cosa naturale, una cosa difficile? Vi siete dovuti conoscere un pochino a vicenda? Oppure è stato proprio immediato? No, diciamo che sono andato all'università, io ho sempre un timore di disturbare i giovani, mi rendo conto dell'età che ho e quindi invece loro si sono fatti avanti un po' con la curiosità di questo vecchietto che veniva all'università. Però dopo un pochino siamo stati come dei commiletoni di pari età. E è stato bellissimo. Questi ragazzi sapevano tutto di quello che succedeva all'università e quindi mi informavano, mentre io ero un po' ridicente sempre a introdurmi per sapere queste cose. È stato un periodo veramente bello, questi ragazzi mi sono stati vicini e vorrei che tutti i ragazzi del mondo, non di Roma o dell'Italia, fossero come i ragazzi che io ho conosciuto all'università Roma 3. Abbiamo detto che lo studio non è una cosa semplicissima, lei ci ha detto, però se studiate ogni esame è fattibile. Mettersi proprio sui libri a studiare, passare le giornate, le ore, alle volte anche le nottate a studiare, com'è stato? Per me ho ripreso con un pochino di difficoltà, però ho subito ingranato e ho trovato naturale leggere e apprendere le cose. Quello che mi ha molto favorito è la frequenza. Io direi ai ragazzi frequentate perché l'aiuto che viene dal parlare direttamente, il sentire direttamente quello che dice il professore è molto utile e entra più facilmente nella mente. Allora Oscar, noi vogliamo fare una sorpresa questa mattina perché lei ci sta raccontando quel periodo. Abbiamo visto prima il culmine, ossia la proclamazione e c'è qualcuno che vorrebbe dire qualcosa a proposito ed è il suo relatore. Ci colleghiamo con Ettore Battelli collegato con noi. Buongiorno e benvenuto. Ci sente, professore? Ti faccio un cenno se ci sente perché noi non sentiamo l'audio. Ok, stanno arrivando, ci sono dei problemi di audio in studio e vediamo se riusciamo a risolverli. Nel frattempo Oscar era proprio quella persona lì che l'ha accompagnata nell'ultimo momento, insomma, nel culmine di questo percorso universitario. E' un professore che ho una sima. Eccolo qua, eccolo qua, lo stiamo sentendo. Professore ci sente? Sì. Eccoci qua, ecco. Ora siamo collegati, professore di istituzione di diritto privato e sportivo all'Università di Roma 3. Beh, come si è comportato questo ragazzo? Devo dire in modo splendido. Io sono veramente molto contento e anche emozionato di poter oggi dire che ho di avere di fronte il dottor Oscar Mattei perché è un traguardo che è importante, è stato importante per lui e mi preme dire anche dal mio punto di vista è stato importante per tutti noi, non solo me, ovviamente i docenti che l'abbiamo conosciuto. Io sin dal primo anno di giurisprudenza, infatti, quando raccontava i primi esami, temevo di essere messi in mezzo, esami un po' difficili. La verità... Insomma, diritto privato non è facile per nessuno, anzi, devo dire che lui ha avuto modo di mettersi subito alla prova e dimostrare quello che avete già avuto modo di conoscere, ho seguito sin dall'inizio, ovvero la sua grande curiosità che si accompagna anche alla sua grande determinazione che è stato quello che anche gli amici, perché per me sono studenti, ma sono soprattutto ormai da tanti anni i suoi amici, non solo colleghi, hanno ricordato. C'è un esempio, uno stimolo per chiunque gli è stato vicino, perché poi voi adesso avete visto circondato da altri studenti o neolauriati come lui, che hanno finito il percorso sostanzialmente insieme, ma era bello vedere tutte le volte a fine lezione dei capannelli che si formavano, perché poi lui ha detto che chiedeva agli altri, ma gli altri chiedevano pure a lui, si scambiavano gli appunti. E questo è stato molto bello e molto importante, ripeto, anche per chi sta dall'altra parte della cattedra, perché avere un riscontro così diretto, così immediato e devo dire anche percepire la passione per l'insegnamento, per la legge, come ha detto il dottor Mattei, per la legge, veramente un grande valore che va trasmesso e come si dice in questi casi una bella e importante testimonianza di cui tutti gli siamo grati, veramente. Professore, Oscar ci ha detto che in realtà se tu studi nessun esame è difficile, questo perché ci si arriva in realtà a una laurea a quasi 90 anni con una maturità molto grande, che però, come diceva lei, può servire da insegnamento a tanti ragazzi che ci stanno seguendo o a tanti genitori sul come spronare i propri figli. Vedere Oscar, vedere quel capannello di ragazzi, riuscire a capire che tutto è possibile e che anche il diritto privato, comparato che non, però possa essere uno scoglio da superare se lo si fa insieme. Guardi, lei ha detto proprio, credo, il segreto che Oscar ha condiviso sostanzialmente oggi con tutti noi ed è la determinazione e la volontà che esaltano le capacità, perché poi è vero che ciascuno di noi ha più o meno capacità, è più o meno portato, ha un'attitudine più o meno presente o latente. Beh, io non so se signor Mattei, oggi dottor Mattei, avesse all'epoca consapevolezza della sua attitudine per il diritto. Sicuramente l'ha saputa ben coltivare, l'ha sviluppata e ha saputo trasmettere questa capacità di coinvolgimento che lo studia in presenza, perché questo è un altro dei segreti su cui mi permetto di essere d'accordo, dottor Mattei. Perché? Perché venire in facoltà la mattina, anche come è stato ricordato, perché ricordo proprio i primi giorni di istituzioni di diritto privato 1 al primo anno, quanto si arrivava, chi prima, chi dopo, un po' in ritardo, chi un po' più timidi, perché il primo anno di università è sempre una novità un po' per tutti, non solo all'epoca per il signor Mattei, per tutti i suoi colleghi che entravano per la prima volta in un'aula grande di università, con tante persone tutti insieme. E quella è sempre una bella emozione per chiunque frequenti, fatemi dire, anche l'università pubblica. E questo, secondo me, è stato anche lo sprone che credo sia servito a lui, sia servito agli altri. La difficoltà degli esami, sì, c'è per tutti. Però abbiamo capito che c'è un segreto per oltrepassare questa difficoltà e ce lo sta insegnando il dottor Mattei quest'oggi. Andare avanti, sempre e comunque. Prof, professor Ettore Battelli, grazie per essere stato con noi, per aver fatto una sorpresa al nostro dottor Mattei. Lo spero e grazie a voi di questa opportunità, perché è veramente un'emozione anche per me. Ancora complimenti e congratulazioni. Allora, noi ci dobbiamo riprendere un po' da queste emozioni. Oscar, ce ne andiamo in pubblicità. Ci ritroviamo fra poco, perché questo uomo qua ha tanto da raccontare. Voi vedete i libri, qua ci sono giocattoli. Le opere qua in giro di Ricamo Sacro le ha fatte tutte quante lui. Poi ce le racconta pubblicità. Stamattina abbiamo voluto affrontare questo difficile venerdì di petto, portandovi all'interno di un sogno che si realizza. È quello di Oscar Mattei, da poco laureato a Roma 3 in diritto. Con lui stiamo raccontando che di fatto tutto è possibile. Oscar si è iscritto all'università, pensate, all'età di 85 anni, prevedendo un percorso di studi di 5 anni. Quindi lei lo sapeva che più o meno verso i 90 anni arrivava alla laurea. Questo però è la conclusione di una vita pienissima. Piena, l'abbiamo detto prima, di tante attività. La passione per i giocattoli, collezionista, ma non solo. Questo è un atlante che racconta tutti i giocattoli del mondo. Alle sue spalle quadri ricamati da lei. Diciamo, come ha fatto a vivere una vita così piena con così tante passioni? è che considero la vita una cosa molto importante, che non va spregata. Se uno può fare delle cose utili a se stesso e anche agli altri magari, non può, non deve farne a meno. Deve darsi da fare. Io sono stato nel sociale da oltre 40 anni con i bambini, con i giovani e questo mi ha arricchito l'animo. Io da questo punto di vista mi sento ricco. Io oggi se incontro la ragazza di 20 anni che mi dice come è successo questi giorni ma lei non è nonno Oscar? Sì. Oh, lei mi insegnava a costruire i giocattoli da piccolo. Ecco. È la più bella moneta che uno può ricevere da questa attività. È bellissima. i bambini che si ricordano di queste cose. Non solo i bambini ma anche i papi perché la sua passione per il ricamo che vediamo l'ha portata anche a un incontro con Giovanni Paolo II. Sì. Eccolo qua. Noi lo vediamo. Quello che sta indossando Giovanni Paolo II in questa immagine, in questa foto è ciò che lei ha fatto. Esatto. E che vediamo tra l'altro anche qua in studio. In questo. Guardi, ho cominciato a ricamare quando hanno consacrato la chiesa a Dragoncello dedicata a Cirillo e Metodio. Così mi è venuto in mente di mettermi a ricamare. Non avevo mai ricamato in vita. Non conosco come si ricama. Questa è la verità. Conosco solo perché l'ho applicato il punto indietro e quindi riempire la stoffa col punto indietro. E ho fatto un corporale piuttosto grande perché ci sarebbero stati tre vescovi che avrebbero consacrato la chiesa. E questo è stato. È stato il mio primo lavoro. Poi sono andato avanti. Mi è piaciuto questo ricamare, va bene, dipingere con l'ago e quindi mi sono dedicato un po' a tempo perso, lo debbo dire, a questo lavoro. Quindi la sera magari davanti anche alla televisione mi metteva a ricamare. Certo, ognuno di questi lavori ha richiesto due mesi magari, ma io non ho paura dell'impegno. Vado avanti finché non ho concluso. E quindi oggi ho regalato dei... C'è stato un incontro anche con Papa Francesco? Sì, ci siamo incontrati anche con Papa Francesco. Io a volte organizzo nella parrocchia dei concorsi di poesia, di disegni, eccetera, spesso su motivi sacri, a volte no, magari sulla mamma. Il passo a considerare la Madonna la mamma è breve e quindi ho avuto il piacere, il grande piacere, di incontrare Papa Francesco per donargli i lavori di questi bambini. Disegni, poesie, ecco, questo. Oscar, rimanga qua, perché noi vogliamo continuare questa storia quest'oggi, ma anche raccontandone altre. Ci spostiamo, io e Antonella andiamo al tavolo per raccontarvi una storia che parla sempre di sogni che si realizzano. Capita che due ragazze abbiano un sogno, un desiderio, che è quello di alimentare la loro indipendenza e che si trovino quindi a andare a vivere insieme, dividere le fatiche per moltiplicare le possibilità. Queste sono Ele e Marghe. Ciao! 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 E sono con noi stamattina Elena Rasie e Margherita Pisani, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto a Di Buon Mattino. Buongiorno! Buongiorno! Oh, rispondono anche in coro, eh? Guarda, proprio sorelle di cuore, come si definiscono loro. Allora, andiamo con ordine, Elena e Margherita. Raccontiamo un pochino qual è la vostra storia. Tutto parte da un'esigenza e da un annuncio messo da Elena. Sì, praticamente Elena cercava una coinquilina che la potesse aiutare ad abitare qua in questa casa da sola e io invece cercavo un posto dove abitare. A Bologna è un problema con gli affitti che sono altissimi e le proposte, appunto, le richieste sono tantissime. Quindi per fortuna o comunque per una conoscenza in comune ci siamo entrate in contatto e ci siamo conosciute. Vi siete conosciute? Da qui è nato un progetto a cui tra poco arriviamo che è Indie Mates. Tra poco capiamo che cos'è. però, Margherita, di fatto, diciamo, come tu dicevi c'è prendere la difficoltà di uno e renderla una fortuna, una risorsa per qualcun altro. In realtà sono cose che si uniscono e combaciano. Nel senso, Margherita aveva bisogno di trovare un appartamento, io avevo bisogno di un aiuto soprattutto nella fascia serale e quindi questi due bisogni si sono uniti e è nato Indie Mates. È un modo di non solo coabitare, vivere sotto la stessa casa ma anche un modo, perlomeno per voi lo è stato, di conoscervi e anche di integrarvi a vicenda ognuna col proprio modo, col proprio carattere. È anche qualcosa che avete scoperto insieme perché laddove ci può essere la difficoltà di una persona, laddove ci può essere una disabilità, laddove ci può essere qualsiasi limite individuale, condiviso con l'altro e partecipando con l'altro, a volte si scopre qualcosa di nuovo, si scopre anche, come nel caso vostro, una possibilità di indipendenza che decidete anche di proporre ad altre persone con un progetto. Esatto, noi abbiamo iniziato ad aprire delle pagine social lo stesso anno in cui abbiamo iniziato ad abitare insieme. Innanzitutto, dal mio punto di vista, ho visto quanto Elena è in gamba con la comunicazione, con i social e proprio a parlare con le persone e quindi dal momento che ho avuto questa bellissima idea di andare a vivere da sola realizzando una collaborazione così importante, io per prima le ho detto Ele, dovresti divulgare questa cosa fuori dalle mura di questa casa, dovresti parlarne. Dal momento che tu per prima vivi la disabilità e sai com'è vivere una disabilità in un contesto sociale dove tabù e pregiudizi la vincono purtroppo sulle persone, sulle loro vite, cioè dovresti dire alla gente raga, ragazzi, noi stiamo facendo una cosa bellissima e io sono riuscita, nonostante le mie difficoltà, soprattutto con le mie difficoltà ho preso in mano la mia vita e ho realizzato questo, lo potete fare anche voi. E soprattutto il fatto che non necessariamente ci deve essere una persona che lo faccia per lavoro, è proprio questo il messaggio. Infatti una delle prime domande che io feci a Marghi fu ma tu hai già avuto a che fare con la disabilità? Lei mi rispose no e io le dissi bene, allora ti scelgo. Cioè nel senso è stata una cosa fondamentale per me perché non volevo ritrovarmi con una persona che magari poteva farlo come lavoro, poteva essere un'infermiera, tutte queste cose qua, perché purtroppo sono proposte che già ci sono nel mondo della disabilità. Anche perché la disabilità è spesso associata alla malattia, per cui c'è anche la paura di dover fare i conti con la difficoltà, la tristezza. Invece dal vostro racconto, da quello che viene fuori, di fatto è una gioia condivisa, è un camminare insieme. Prima nelle immagini che sono scorse c'era un'immagine di voi che vi tenevate per la mano. Quello è stato il modo in cui avete capito che potevate camminare insieme, che la prospettiva di Margherita poteva diventare quella di Elena e viceversa. Sì, ed è proprio quello che vogliamo far arrivare anche agli altri, perché in realtà IndieMate è un progetto, come diciamo sempre, che può fare chiunque. Noi abbiamo visto anche delle immagini, che sono poi i video che voi caricate sui vostri canali social, ma come è iniziata questa giornata per voi due, per entrare anche un pochino nella vita che fate tutti quanti i giorni? Perché vediamo parecchi sorrisi in queste immagini. Ma in generale stamattina? In generale, insomma, nel senso che ogni occasione ha anche un risveglio, anche se una è stanca e l'altra invece comincia ad alzare le tapparelle, perché la giornata in qualche modo deve iniziare, ci sembra di capire che c'è un regime casalingo molto disteso, molto sorridente, molto felice. Sì, lo costruiamo giorno per giorno, nel senso che litighiamo anche noi, più che litigare discutiamo, però... Di cosa dico? Appena mi sveglio la mattina cosa dico? La parola di Margher è che sono stanca, quindi sono lì, la rifugio la giornata, però sì, riusciamo molto a parlare, a parlare tra di noi, a rispettare i nostri spazi, che è una cosa fondamentale per questo progetto. Durante le giornate, comunque Elena ha i suoi impegni, ha anche il suo lavoro, eppure io esco di casa quando lei ha l'assistente e vado anche io a lavorare. Io tengo due bambine, quindi un po' di cose. Esatto, l'assistente è anche una persona fondamentale nel nostro progetto, nel senso che se non ci fosse lei, io non potrei rimanere da sola durante il giorno. Noi vi ringraziamo perché ci avete fatto capire che quelli indie mates, l'indipendenza, indipendenza non è un qualcosa che va rincorso, ma va costruito, e questo è quello che fate voi tutti i giorni, al di là della disabilità, al di là delle difficoltà. Il sorriso che ci avete portato stamattina ci testimonia che tutto, tutto è possibile, è quello che stiamo raccontando questa mattina. Quindi grazie a Ele e Margher per essere state con noi e aver vissuto l'inizio di questa nuova giornata insieme. Grazie a voi. Ciao, buona giornata a voi, buona giornata che continua anche per noi, perché ritorniamo da Oscar, hai visto Oscar, che tu ci insegni che a 89 anni si può ricominciare, ma noi stiamo esplorando quest'oggi storie che dimostrano che la condivisione aiuta. La condivisione che tu hai vissuto, hai vissuto in università con i tuoi compagni di corso, perché abbiamo visto, ti sei laureato poco tempo fa, ma condividi anche quotidianamente con tua moglie che è una presenza che ti accompagna sempre, Ines. Sono circa 70 anni che siamo insieme, 63 di matrimonio, 7 di fidanzamento. Oggi è quasi cieca, ci sente pochissimo, ma io gli voglio bene come il primo giorno. E ancora uno direbbe è stata la mia donna. è la mia donna, è la madre dei miei figli, e io l'adoro. Scusate, forse scandalizzeremo i giovani che sentono un vecchio che dice queste cose. Lo so, io poi sono un uomo di vecchio stampo che ci si vergognava una volta di mettere in piazza i propri sentimenti. Io mi sono adeguato un pochino al mondo di oggi. Mia madre mi ha baciato per la prima volta. Guardi chi ci sta guardando? Guardi chi ci sta guardando? C'è Ines che ci guarda da dietro le telecamere. E mi sento di dire che in questo momento vogliamo dedicarci proprio un attimo, un attimo per vivere a pieno questo venerdì, un attimo di poesia, perché tu hai scritto una poesia per il vostro primo incontro e Giacomo ce la leggerà. C'è credete, se vi dico, che guardando il mare una domenica mattina ho visto una sirena così bella che mi son detto subito «Ecco la donna mia!» C'avevo vent'anni, proprio l'età più bella, e tra mille ragazze piene d'amore andavo cercando l'anima gemella per dargli me stesso, per donargli il cuore. È tutto qui, e adesso stiamo insieme «Embene matto, sempre ci volemo» e presto, se Dio ci sostiene, per quella vita a due ci imbarcheremo per essere sempre felici. Che bello, che bello, che bello. Vieni con noi Oscar, che le sorprese non finiscono qua. Ci spostiamo verso il tavolo perché al centro c'è una torta che recita. Congratulazioni nonno Oscar. Grazie. Anche la torta. Anche la torta, perché ci mancherebbe. Mediterresti questo ed altro. Grazie Oscar Mattei per essere stati con noi. Un ringraziamento a te, un saluto a tua moglie Ines che è qua, l'avete vista, ed è con noi. Noi vi salutiamo, finisce la settimana per noi. Ci ritroveremo lunedì, settimana prossima, alle sette e mezza, lunedì fine del mese del Rosario, fine di ottobre, e noi ci dedicheremo quella puntata per andare a Pompei, ad Assisi, e anche a Lourdes e a Medjugorje. Quindi, ovviamente, una mattinata come sempre da vivere insieme. Grazie a Oscar. Noi ovviamente adesso ci salutiamo, ci rivediamo lunedì. Un buon fine settimana a tutti. Linea il mio medico, con Monica. Grazie. Grazie a tutti.